Il principio dello scambio equivalente Per ottenere qualcosa è necessario dare qualcos'altro in cambio che abbia il medesimo valore L'ho ritrovata all'interno di un anime che mi guardavo da piccolino L'introduzione diceva proprio, recitava proprio questa frase Per ottenere qualcosa è necessario dare qualcos'altro in cambio che abbia il medesimo valore Quando si parla di oggetti materiali è facile dire La scarpa costa 100 euro, devo dare 100 euro per avere in cambio la scarpa Ma quando si parla invece di oggetti non materiali Ad esempio le ore di lavoro oppure l'amore di una persona Per avere magari l'amore di quella persona che sacrificio devo dare in cambio? Sto ponendo il giusto sacrificio? Questa è una bellissima domanda da porsi tutte le volte che si cerca di raggiungere un proprio obiettivo Quando si pone un sacrificio si mette a rischio la propria incolumità Se io mi sacrifico e do quelle 100 euro per comprare le scarpe Devo perlomeno essere sicuro che in cambio avrò qualcosa di simile alle scarpe Altrimenti avrò solamente buttato quei soldi Questo è un errore che fanno moltissime persone ad esempio che giocano d'azzardo Si sacrificano quelle 5 euro, 10 euro per comprare un gratto e vinci E poi alla fine per avere un risultato che è così incerto Che non ha senso Non vale, il sacrificio non vale il possibile risultato Gli errori principali che le persone fanno Quando si parla del principio dello scambio equivalente Sono tre Il primo errore è quello di non sacrificarsi abbastanza Magari un tuo obiettivo richiede 5 ore al giorno ma tu te ne sacrifichi due Questo può comportare un gravissimo danno per la propria salute Perché noi ci stiamo sacrificando per ottenere qualcosa Quindi stiamo dando una parte di noi per non avere niente in cambio È come se tu hai 10 pagnotte di pane per 10 giorni E decidi di darne una in cambio per poi averne due in futuro Ma quando ne dai una non ne ricevi nessuna E poi ne dai un'altra e non ne ricevi nessuna Questo ti farà solamente vivere meno giorni Perché avrai meno pagnotte di pane È importante prima di compiere un sacrificio Essere consapevoli del sacrificio che bisogna compiere per raggiungere quell'obiettivo Il secondo errore invece è quello di non compiere affatto il sacrificio Magari desiderare di avere una macchina E non sacrificarsi per ottenerla Cioè non lavorare, non mettere i soldi da parte per ottenere quella macchina A mio avviso questo è puro sadismo Cioè è la cosa più sadica che conosca Cioè tutte quelle persone che hanno un desiderio Ma non fanno niente per ottenerla Non la otterranno mai e continuano a desiderarla E quel desiderio ti farà stare male Perché tu vuoi qualcosa che non puoi avere E non avrai mai E continui a stare male perché non ce l'hai E le altre persone ce l'hanno E tu vorresti averla Più la desideri più ti fa stare male Se siete in questa condizione uscite O decidete di compiere il sacrificio O eliminate il vostro desiderio Comprendete che è un desiderio che alla fine è effimero Non desideratelo più Il terzo errore invece è quello di compiere troppo sacrificio Ad esempio vuoi costruire il tuo business online E il sacrificio da compiere sono due ore al giorno di lavoro Ma tu lavori quattro ore al giorno Due sono le cose O raggiungi un obiettivo ancora più alto In quel caso per te può essere positivo Oppure se non lo volevi Vuoi dire che avrai qualcosa in più Rispetto a ciò di cui hai bisogno Magari a te bastava una panda E invece gli sei comprato la Ferrari E quindi con la Ferrari non riesci a sfruttarla appieno A godertela appieno Oppure toglierai molto altro tempo a altre cose Magari dato che dici quelle due ore in più al giorno Non hai più il tempo di fare palestra E quindi stai sacrificando la tua salute personale Per poterlo aggiungere quell'obiettivo in più Di cui non hai bisogno Quindi bisogna molto imparare a domare A bilanciare questo rapporto tra desiderio e sacrificio E tutto lì per poter raggiungere i propri obiettivi Fammi sapere se ti interessano tutti questi argomenti Riguardanti il come raggiungere i propri obiettivi Come non farsi ostacolare Come raggiungerli al meglio Scrivimi qui sotto tutte le domande di cui hai bisogno Se vuoi scoprire qualcosa Fammi sapere cosa ne pensi di questo video Nei commenti Come raggiungerli al meglio Come raggiungerli al meglio Come raggiungerli al meglio